Viene fuori un quadro raccapricciante e impietoso davvero sulle liste d'attesa dell'ASL di Pescara. Spropositate file d'attesa per un esame negli ospedali dell'ASL di Pescara. E' la situazione più critica di tutto l'Abruzzo, denuncia il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari, che ha esposto i dati del portale trasparenza del Ministero della Salute. A fronte di un'attesa massima di quattro mesi dal momento della richiesta, per alcuni esami trascorre anche un anno. Ecodoppler, tronchi sovraortici, un anno di attesa. Ecodoppler degli arti inferiori, un anno di attesa. Prima visita endocrinologica, un anno di attesa. Prima visita oncologica, quasi un anno di attesa. Diagnostica del collo e della testa, un anno di attesa. Se abbiamo un elenco paziente... Allora, capite voi, se una visita deve essere, secondo legge, erogata dopo quattro mesi e viene erogata dopo un anno, l'utente paziente si ammala di più, si aggrava, rischia di morire talvolta. Immaginate la prevenzione, perché in questa classe di priorità rientra la prevenzione, quindi coloro, il colon addirittura, la colonscopia totale, abbiamo registrato un anno d'attesa. Quindi coloro che devono fare la prevenzione, dopo un anno, se viene fatta la prestazione dopo un anno, anche la prevenzione, come si dice, si va a far benedire. Di conseguenza molti cittadini vanno altrove per curarsi o si rivolgono alle cliniche private, oppure addirittura rinunciano alle cure. Le criticità non dipendono dal Covid, spiega Pettinari, perché i dati erano gli stessi anche prima della pandemia. Poi il pentastellato punta il dito contro la regione. La prima cosa da fare, dice Pettinari, è assumere personale. L'appello forte, la denuncia forte a chi governa la sanità. Questo è il fallimento più totale del centro-destra, Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia, che governano la sanità, perché la sanità dipende dalla regione, in regione governano. L'appello forte al presidente Marsiglio, all'assessore regionale della sanità, verì di fare subito, fare presto, invertire immediatamente la rotta, anche perché sono arrivati 10 milioni di euro dal governo per l'abbattimento delle liste d'attesa. Cosa stanno facendo con questi soldi?